Buongiorno, ciao a tutti. Anche questa mattina ci troviamo in una parte della nostra chiesa, un altare laterale e come potete vedere la statua è dedicato al Sacro Cuore di Gesù, una devozione molto tradizionale che ha accompagnato da tanti anni, da secoli, possiamo dire anche quello che è stata la preghiera di tanti cristiani. E qui davvero anche in Zorlesco ci sono molti devoti che passano e si fermano a sostare anche davanti a questa statua. Il Sacro Cuore, quella immagine, indica proprio l'amore del Signore che non ci abbandona mai, l'amore che si è sacrificato per noi dandoci la vita ed è quello che celebreremo poi nella Settimana Santa entrante dove appunto nella Pasqua di Gesù noi celebriamo proprio la sua consegna all'umanità, la sua offerta, il suo amore che poi si è espresso in una maniera più alta morendo in croce per noi. Ecco, in tutto questo vogliamo proprio cogliere, come in questi tempi qui, quanti appelli abbiamo fatto e sentiamo anche alla preghiera. Vogliamo proprio riconoscere questo aspetto della nostra vita così importante e valorizzarlo. E quindi è importante anche riconoscere che quando preghiamo il nostro grido, la nostra preghiera non è muta, perché Dio non è sordo, Dio ci vuole bene, ci ascolta e si china sulle nostre miserie. E il Sacro Cuore appunto vuole anche indicarci questo, l'amore di Dio per l'umanità che si è espresso proprio donando la vita per noi, il suo amore misericordioso che ha perdonato i nostri peccati e che ci ha liberato da ogni male. Ecco, allora teniamo sempre viva questa fiamma, la fiamma della fede, la fiamma che alimenta anche la speranza, alimenta anche la solidarietà, la fraternità tra di noi, che anche attraverso questa emergenza sta un po' fiorendo. Magari più di prima, la gente è più attenta anche a chi ha bisogno. Mi chiede, eh, tanti, cosa posso fare? Dovevo portare dei generi alimentari per aiutare qualche famiglia che ha bisogno, le conosce? Ecco, allora tutto questo fa capire che comunque in mezzo all'oscurità c'è sempre la luce, c'è sempre ecco qualcosa di bello che deve, come dire, scaturire, che dobbiamo tenere vivo veramente per non subire queste giornate, ma comunque viverle. Certo, siamo in attesa che tutto ritorni alla normalità, però credo che sia importante non lasciarli perdere queste giornate trascinandole così, sonnecchiando qua e là e basta, ma cercando di dargli un senso, di dargli comunque una forma, di dargli un volto e di viverle proprio. Come dicevo, alimentando anche la nostra speranza con la preghiera, diciamo anche le nostre relazioni, comunque siano, anche se sono limitate, possono essere mantenute attraverso i social, all'interno delle nostre case, delle nostre famiglie, una telefonata, eccetera. Tutto questo ci fa capire che c'è sempre la voglia di vivere che deve emergere, che deve trionfare. Questo è anche quanto ci chiede Gesù. Ecco, allora vi lascio con questo pensiero e vi auguro davvero una splendida giornata. Fuori c'è già un bel sole e quindi siamo anche in un periodo molto bello. Viviamo anche questa dimensione, cerchiamo anche di cogliere questo messaggio che ci offre il Signore anche attraverso la natura, attraverso anche il creato, accorgendoci anche di queste piccole cose che abbiamo scoperto sono veramente grandi per tutti noi. Allora un caro abbraccio e un augurio davvero di una buona giornata. Ciao a tutti!